kenyo rivers anthony queen e giancarlo giannini sono il tasto d'eccezione in questo film del regista alfonso arau tornando a casa dopo la guerra paul sutton prende un treno decisa di iniziare una nuova vita e conosce per caso victoria aragon una bellissima ragazza di ritorno al vigneto di famiglia quando victoria racconta disperata di aspettare un figlio poi propone di fingerci suo marito per dare la possibilità di affrontare con dignità suo padre un uomo severo e autoritario sarà la magica sensualità del rituale della vendemmia ad accendere la passione attori brinanti e una fotografia straordinaria il profumo del mosto selvatico toccherà sicuramente il vostro cuore ok 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 Grazie.